mister due soli giorni di lavoro prima di questo derby di coppa dove si è dovuto lavorare di più con due giorni di lavoro soprattutto ho dovuto lavorare sulla testa sulla mentalità sul momento che stiamo passando perché è un momento dove i ragazzi sanno che non stanno dando quello che che devono dare per cui ho cercato di soprattutto di lavorare su questo anche perché preparare la partita di domani ci sono poche parole sono quelle partite che c'è da parlare poco e fare tanti fatti come arriva quindi la squadra a questa partita e dall'infermeria se ci sono aggiornamenti l'infermeria abbiamo recuperato vincenzo quindi era quello che ci aspettavamo ma non è nemmeno quello è che domani io so che gli 11 i 15 16 che entreranno in campo scenderanno in campo daranno tutto quello che c'è da dare